Bentornati ragazzi, oggi prima sfida di settimana 6, season 3 Prendi un'arma a capanna catasta, questa capanna catasta, stiamo atterrando Sperando di atterrare per primi, sentiamo già i nemici Che atterrano come sempre prima loro Il prendi un'arma chiaramente non è come abbiamo fatto adesso, ma ebbensì da pescare Lui ci ha fregato la canna, non ci credo E allora amico, l'unica è uscita Abbiamo preso la canna e adesso non dobbiamo fare altro che in teoria pescare un'arma Mentre siamo qua dalla capanna E finalmente avremmo finito questa missione Ovviamente oggi che è il primo giorno probabilmente ci metterete un po' a trovare libero Tanto tempo che peschiamo, io vi chiedo un mi piace a questo video E se vi fa piacere anche un'iscrizione al canale per supportarci Qua non si pesca mai niente, come al mio solito Allee, preso Prendi un'arma a capanna catasta, superato Bene, anche per oggi è tutto ragazzi Io vi saluto e ci vediamo alla prossima Ciao ciao Ciao